Easy Go Non ti sembra strano C'è stato un problema sottoterra E ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce È abbastanza normale Se qualcosa è andato storto Dobbiamo essere pronti a ogni evenienza Comunque anche il Tempio è protetto Non so A me sembra che siamo passati da un allarme giallo In un luogo circoscritto A un allarme russo generale Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi Grazie